E' un po' come misurare la felicità interna lorda, altro che PIL, non è fotografia reale della realtà. La provincia di Lecce cerca altre strade per valutare il suo stato di salute e costruire le vie d'uscita dalla crisi attraverso il progetto Misura del Benessere Sociale, al di là del PIL. Una collaborazione tra Camera di Commercio, Astri e Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Ha l'obiettivo di misurare il benessere del territorio per sottolinearne i punti di forza e quelli di debolezza attraverso indicatori non solo economici, ma anche e soprattutto relativi allo sviluppo sostenibile, dall'inquinamento ai possibili danni all'ambiente, dai consumi energetici alle problematiche relative alle risorse idriche e alla produzione di rifiuti, senza dimenticare il reddito, i servizi pubblici, la salute, il tempo libero, la mobilità. E' un po' sull'onda della felicità interna lorda, un po' più scientifica. Siamo molto interessati allo sviluppo di indicatori che cerchino di misurare quali sono le dinamiche della società perché ci servono per capire qual è l'impatto dei cambiamenti climatici, che è uno dei nostri temi che dobbiamo affrontare. Siamo anche in particolare molto interessati allo sviluppo di indicatori in un certo senso non convenzionali, che perlomeno cerchino di cogliere una realtà più profonda e in maniera più accurata di quelli che sono gli indici convenzionali, che tipicamente sono molto finanziari o monetari e che, ahimè, abbiamo imparato a conoscere tutti quanti in questi giorni, ma spesso riflettono solo parzialmente quelli che sono i valori di una società. Si ripete qui un'esperienza simile già in corso a Venezia dove sono state stimolate diverse associazioni di categoria, gli stakeholders, i portatori di interesse e la stessa metodologia che si vuole impiantare nel Salento. Vorremmo invece costruire una specie di cruscotto che valutando le tre anime principali, qualità della vita, equità e sostenibilità, e sottolineo quest'ultimo, sostenibilità per le ovvie implicazioni di attualità che il termine comporta, possono essere di utilizzo sia per il decisore pubblico che eventualmente per l'imprenditore privato. L'idea alla base è che la realtà non può essere schiacciata solo su una dimensione, ma a diverse sfaccettature devono corrispondere diversi parametri multidisciplinari. Quello che noi ci aspettiamo da queste ricerche sono proprio ulteriori dati per costruire un pacchetto di dati stessi, proprio per metterli poi in campo e vedere di costruire percorsi di sviluppo economico. L'indagine continuerà fino a dicembre 2013, condotta dal Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, che a sede a Lecce raccoglie le eccellenze nazionali della ricerca sul clima con respiro globale. Ecco perché il 27 luglio a discutere delle reti innovazione per uscire dalla crisi ci sarà a Lecce anche il ministro dell'ambiente Corrado Clini, ospite nell'ex convento dei Teatini.